Oggi parliamo di agroambiente e di finanziamento in arrivo dalla regione toscana. Finalmente partiamo con due anni 21-22 di finanziamento del nuovo PSR. Si tratta di misure fondamentali per il nostro territorio e per le nostre aziende che vivono in situazioni particolari. Siamo quindi in presenza della misura 11 del biologico e della misura 13 delle cosiddette zone svantaggiate, in particolare montane svantaggiate. Sia per la misura 11 sia per la misura 13 i finanziamenti sono legati alla superficie coltivata e al tipo di cultura che viene praticata. Arriviamo fino a 700 euro ad ettaro per i vigneti biologici. Ovviamente i nostri uffici restano come sempre a disposizione per avere chiarimenti e dettagli maggiori sulla presentazione di queste domande. Stiamo parlando di finanziamenti strategici per le nostre aziende e per la collettività perché stiamo parlando di aziende che rispettano l'ambiente, che mantengono gli ecosistemi e stiamo parlando di aziende che presidiano il territorio nelle zone montane e nelle zone svantaggiate. Quindi finanziamenti assai utili per tutta la collettività. Grazie a tutti! Grazie a tutti!